benvenuti o bentornati nel mio canale io sono biramo la rossi e allora volevo portare dei video di minecraft perché mio fratello l'altro ieri mi ha regalato l'xbox dei 60 mio fratello è qui con me bella raga e niente comunque ragazzi non sono ancora professionale quindi non non ho webcam e altre cose per registrare sull'xbox però vabbè comunque già avevo fatto dei video solo che l'ho dovuti cancellare perché non me li sono ritrovati più in galleria non lo so perché non è che l'ho cancellato io ma non me li sono ritrovati più in galleria vabbè comunque youtube andiamo ho chiamato nome mondo vi faccio vedere che non ho niente ma tu che niente ok crea il nuovo mondo comunque ragazzi questo qua è solo un video di prova diciamo che voglio vedere se vi piace così poi mi porterò altri allora vediamo spero che spavano dove sta un villaggio perché sarebbe molto più comodo scusate non è caduta la cosa il telefono che è in noccio ma come che è in noccio il curatore di ma ecco un pazzo che tu sotto che è in noccio il gioco ora contiene cinza no 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 ok ok ti prego villa non c'è ma c'era una piccola sbonata mo bello che un mio amico esponato esponato in una grotta e per cui allora qua ho troppo solo fa la casa perfetto guardate pecore fighissimo ma sono un sacco di pecore ovviamente c'è stai vicino a diciamo una foresta eh però per ammazzare la pecore sicuro si intende vabbè non si prende nemmeno la mia perché è da due giorni che c'ho che c'ho l'xbox non ci sta già un consiglio quando stai per per colpire una pecore o qualsiasi animale salta perché è perché fa più danni si chiama visto ma quella è nel vabbè guarda 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 fai dove scappi signora se pigli la mira perché da due giorni che c'ho l'xbox non ci riesco a giocarci benissimo devo dire la verità eh anche se ragazzi io da quando avevo cinque anni insomma da quando è nato minecraft io ci giocavo da sul computer perché ero piccolina vedevo sempre i miei fratelli vedevo sempre i miei fratelli giocare a sto gioco e me lo sono fatto a scaricare poi è morta sì ora ancora un'altra vabbè ecco ecco due tre 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 vabbè sarò pure un'altra là un pollo un pollo un pollo tre tre vabbè tre vabbè non l'ho visto manco i uai morto oh è questo boh stava scappandosi sì era una pecora vai ora ci ha dato le speri ora andiamo a prendere legno ma che cacchia non mi sembrava una forziera cosa ti sembrava una forziera zucch no eh zucch ma chi è terra è terra no 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 perché ragazzi in quell'altro mondo praticamente ero spavano vicino a un villaggio dove ci stavano un sacco di pecore questa roba grano eh grano grano vabbè nei villaggi e anche un bozzo di zucche che dovevo trasformare insieme così c'è la forma di zucca di zucchina allora 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 comunque ragazzi questo caso è un video un pochettino neanche tantissimo lungo perché è solo così per farvi vedere un pochettino poi se è se mi piace se mi piace vi porto altri episodi allora comunque ragazzi vi ringrazio per quasi 20 iscritti 18 iscritti vi ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti perché sono molto felice anche se c'è tipo tutti diranno ma 18 iscritti non è che ne hai un milione però io sono felice perché comunque ho 11 anni e faccio anche pochi video eh quindi comunque seguite anche su youtube mio fratello su su youtube si chiama thomas2000 giusto? no 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 è vero allora thomas2000 è un canale che ha perso l'email quindi è l'h l'h è tanto quindi ora c'ha direttamente uno che si chiama thomas il canale quindi iscrivete thomas no thomas vale fuoco vi esce ah scrivete thomas vale fuoco vi esce tipo con immagini del profilo con scritto thomas giusto? si una targa una targa quindi allora facciamoci legno ok ora trova una una posta questa è ideale come postazione allora che bello vi immaginate questo no no l'hanno brutto però è carino no 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 ma di che figo do a vedere no 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 sembra no ma che pappe chi è che mi ha spinto eh? muori male ok allora mettiamo la crafting qua e inizio a fare solo una piccozza vado un attimo giù in caverna mi prendo si stavo spartando la crafting mi prendo un po' di di roba di pietra con che ma che raga l'avete notato anche voi? si cioè si eh si l'altra volta stavo giocando un pochettino così a me non si vede devi mettere la torcia non si vede eh no la torcia in questo momento quindi vabbè comunque mi spavendo un pochettino di pietra poi ok fai la torna non si vede niente vabbè eh lei prende un po' di oh prendi mi servono 8 non ci so ma dopo raga non vedo niente io sto girando la visuale non so se vedete comunque sto girando la visuale ho trovato è caduta magari so praticamente è una caverna eh è una caverna non lo so comunque si era buggato tutto quanto non vedevo più niente ero incastrata non so dove tra questa strana moce sul video e ho ritrovato tutto però vabbè intanto salendo ho preso l'altra pietra ora mi vado a fare la fornace no dopo ma ora ma ora ci vediamo adesso ci vediamo ok ragazzi ho fatto un po' di roba preso pure del cibo che ho messo a cuore ora devo giungere perché è diventata notte e vediamo a che punto sta metti qualcosa nella cesta sì sì ora mi sono fatta pure una cesta sì certo mi sono fatta pure una cesta fabbrica allora devo un attimo mangiare perché starei l'algermente morendo di fame allora ragazzi ho deciso di fare una cosa niente no se sarà la mia casa praticamente voglio fare una farm di polli una farm una farm una farm di polli perché ho già trovato un po' di ho trovato due uova quindi poi ne prenderò altre e farò polli un pollo un pollo due polli tre polli quattro ok swag allora ok ragazzi pure vicino l'acqua quindi io tipo qua ci faccio tutto tipo una farm così ok allora ora vado a prendere un bel po' di legna per incominciare a fare la base del della casa della casa della casa la status step se vuoi bene la mira ok comunque ragazzi il video sta quasi per finire perché come vedete già sta durando un bel po' quanto 9 minuti e 18 quindi fra un pochettino pochettinissimo finirà il video quindi ora stoppiamo che così finiva la legna faccio la base della casa e poi finisce il video bella allora ragazzi questa è la base della mia casa qui ci farò la porta penso a due vediamo se esce bene se è simmetrico no ma no qua si no c'è la fornace e vabbè poi dirò tutto vedi è simmetrico comunque ragazzi mi vedete piccolina la casetta perché poi in futuro la farò più grande pure un bel paesaggio e niente ragazzi che dire ci vediamo ad un prossimo video bella raga bella Grazie a tutti